Festa in casa, gelata di calcio a 5. La squadra allenata da Emanuele Ministeri con due giornate di anticipo rispetto alla conclusione del campionato ha ottenuto il passo per approdare in C2 dopo aver dominato in lungo ed in largo il torneo di Serie D. Mancava un punto alla matematica promozione che è arrivata sabato scorso. Alla fine di punti ne sono giunti tre grazie alla vittoria per 7-1 contro la città di Nissolia ottenuta sul campetto in erba sintetica del Presti. Una gara vinta con voglia e merito dalla formazione di casa che ha messo subito sotto gli ennesi dimostrando che la vittoria finale non poteva di certo mancare all'appello proprio davanti ai numerosi tifosi di Fede e Biancazzurra. Siamo in un campionato che abbiamo fatto una lotta contro tutto e tutti. Sarà il blasone, sarà il nome, non ci ha regalato niente a nessuno. Squadra ultima in classifica, penultima, facevano l'evento, lo cantine, ci facevano la guerra in campo. Abbiamo vinto e l'abbiamo meritato, lo posso dire a voce alta, l'abbiamo meritato contro tutto e tutti. Il merito a chi va? Al gruppo, un gruppo eccezionale, il gruppo più bello che abbiamo allenato. Che campionato è stato il suo tra quelli che ha vinto lei? Il più bello, il più bello in assoluto. Sarà avere una società alle spalle come il nome Gela Calcio. Io sono stato e sono attualmente un grande tifoso. Vincere con la squadra che tu tifi da bambino è un'emozione unica che grazie a Dio sto provando oggi. Il prossimo anno in 16-2 con altre due squadre gelesi? Eh sì, ci siamo abituati. I problemi non sono miei, ce li giocavo in campo, cercheremo di sistemare qualcosina per frontare sempre in alto. A campionato di Mediocri non è da me. Questa è la rosa che ha vinto il campionato. Nicola Frejica, Nuccio Cauchi, Nicola Guerreggiante, Giovanni D'Alessandro, Giovanni Manfrae, Andrea Mauggeri, Giovanni Caffà, Dario Moscato, Rocco Amato, Emanuele Maganucco, Emanuele Cavenio e Giacomo Faldelli. Un'emozione indescrivibile. Vincere un campionato con due giorni d'anticipo, una cosa senza parole veramente. Che campionato è stato questa legge la calcio nel campionato di Serie D? È stato un campionato dove ho trovato dei compagni di squadra che sono più di compagni una famiglia, trasferte bruttissime, però è stata una soddisfazione immensa. Un gruppo unito, un gruppo fatto da ottimi giocatori che è riuscito a portare a casa questa bella vittoria? Sicuramente, oltre a studiare negli allenamenti già da settembre fino ad oggi, abbiamo dato anima e cuore per questa maglia che la oneriamo per sempre perché ce le portiamo nel cuore questi colori. Una dedica per questa vittoria? La dedica al mio mister Emanuele Ministeri che è stato per me come un padre, oltre ad essere un allenatore, abbiamo condiviso molto insieme.